Siamo al Consolato Lituano a Palermo, in una serata per promuovere lo scambio commerciale e turistico tra Sicilia e Lituania. Ne parliamo con il responsabile Giovanni Callea. Siamo qui per favorire questi scambi tra Italia e Sicilia. L'idea di base che abbiamo attivato con questo processo è che le attività commerciali e le attività promozionali sono due aspetti della sesta medaglia. Per cui noi abbiamo invitato qua alcuni giornalisti della TV nazionale lituana che faranno un servizio sia su esponenti della cultura siciliana ma anche sui nostri produttori. Noi viviamo nell'idea che non si possa vivere di cultura. In realtà nelle attività che abbiamo messo in corso in Lituania stiamo facendo esattamente il contrario. Stiamo promuovendo il nostro processo culturale, il nostro patrimonio culturale per favorire la commercializzazione dei prodotti. Noi crediamo che, e quello che abbiamo messo in atto in questo percorso è questo, che attraverso la promozione dei nostri beni culturali e della nostra storia è possibile favorire la commercializzazione dei nostri prodotti all'estero. Di questo sono convinti anche i nostri interlocutori. Non a caso hanno deciso di moltissimi giornalisti che si occupano di vino, in realtà ci chiedono anche le interviste con i nostri personaggi illustri. Ci chiedono di visitare i monumenti perché all'estero più che in Italia è molto chiaro che è un tutt'uno la nostra cultura gastronomica, la nostra cultura produttiva ma anche la nostra produzione culturale. È un tutt'uno che deve chiaramente essere promosso in sinergia. Quello che noi stiamo facendo in pratica è promuovere i nostri beni culturali e parallelamente favorire la commercializzazione dei prodotti. Abbiamo avviato questo percorso circa un anno e mezzo fa e abbiamo scoperto che in realtà l'immagine della Sicilia nel mondo è strettamente legata al sole, al mare e a niente di più. Favorire la conoscenza dei nostri luoghi d'arte, della nostra storia, favorisce moltissimo anche l'interesse per i nostri prodotti culturali e anche per i nostri prodotti dell'enogastronomia e per le nostre produzioni industriali. Se io fossi assessore al turismo o assessore allo sviluppo economico in Sicilia quello che farei in pratica è favorire gli scambi con i popoli del nord che sono chiaramente fortemente attratti dalla Sicilia e dal nostro patrimonio culturale e sulla base di questi scambi avviare e intensificare i processi commerciali. Se c'è qui oggi la televisione nazionale lituana dopo un anno di lavoro, un anno di viaggi, di spostamenti vuol dire che chiaramente il lavoro seminato ha senso ma vorrei anche indicare che questo genere di promozione non ha un reale costo per la Sicilia ed ha un impatto enorme su questi territori. Quindi la mia idea è che si possa coniugare la ricerca e lo sviluppo della promozione delle nostre produzioni tipiche contestualmente con lo sviluppo del turismo e con lo sviluppo della nostra economia. Il tutto va fatto in maniera chiaramente metodica e soprattutto utilizzando i linguaggi del posto. Si parla tanto di turismo e di potremmo vivere di turismo e si spengono tanti soldi in promozione. La mia personal idea è che la promozione passi attraverso due canali. Un lavoro di pubblica relazione sui territori, dialogando con i giornali, con le tv che spesso sono disponibili a venire in Sicilia e a raccontarci senza difficoltà e dall'altra parte investire sulle connessioni, sui trasferimenti, sulla viabilità interna e soprattutto sui collegamenti aerei con le nostre destinazioni. Perché è chiaro che se c'è scambio tra persone automaticamente c'è lo scambio di beni e servizi. Siamo con l'avvocato Alessandro Palmigiano, console della Lituania in Sicilia. A lui chiediamo qual è il filo rosso che può legare dal punto di vista commerciale e turistico la Sicilia con la Lituania. I due opposti si attraggono, per cui sotto un profilo turistico i due territori sono molto diversi e proprio per questo c'è un interesse reciproco. La Lituania è molto verde, ci sono 3.000 laghi, la Sicilia è piena di storia, un mare diverso rispetto a quello lituano e anche montagne che in Lituania non esistono sostanzialmente. Per cui queste sono le differenze che attraggono i due paesi, i due flussi turistici sono reciprocamente interessati. Sotto il profilo commerciale c'è una produzione diversa. In Lituania viene apprezzato ovviamente principalmente il vino, i prodotti dell'enogastronomia siciliana.